Ciao a tutti ragazzi per il video di questo verissimo video che potete vedere siamo su Jurassic World Evolution 2 Ma io dobbiamo parlare Jurassic World Evolution 2 perché oggi è uscito un fantastico trailer Non sono solo questa volta perché sono in compagnia di... Matthew e Chuck Eccoli qua, salve salve gente Allora direi di iniziare... E il 30, il 30 in 30 mamma mia signori Il giovedì prossimo sarebbe in pratica da adesso circa Cosa ne pensate voi? Ho visto una cosa strana Cosa hai visto? Torna 5, 6, 4 Qua? Cosa hai visto di strano? La galleria La stavo notando pure io sta cosa? Non è attaccata la voliera ma al terreno Guarda questi sassi perché in realtà nell'update mettono una cosa particolare O dopo ne parliamo Potrebbe essere questo effettivamente Matteo magari c'ha gli occhi di falco Però mi piacciono tutti quanti Partendo dal Dino Kairus che è bellissimo È talmente bello che fare una mod Guarda Sì è fantastico È molto da vantaggio Pure i colori che c'è è molto simpatico Tutti quanti piacciono tantissimo Questo pure il Sino Che praticamente sembra un procione Poi ce ne può leggere piano piano tutte le descrizioni ragazzi Stanno facendo molte volte questi Dinosauri piccoli Eh sì ma tanto ci vanno abbastanza bene alla fine Allora iniziamo con la descrizione Dello Yuti Guardate qua che belli che sono ragazzi Ne abbiamo quattro C'è questo qui con la cresta rossa invece tantissimo Molto molto belli C'hanno colore a strisce che era quello della coda Che hanno fatto vedere Anche sembra più folta Che dite pure secondo voi sembra più folta Sì 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 assolutamente sì assolutamente Quindi l'hanno cambiata magari Che non era così Comunque mi piace la direzione che stanno prendendo Mettendo nel gioco Dinosauri sempre diversi Sì è vero Vediamo un po' cosa dice la Frontier Lo Yuti Rannus Con nome significa tiranno piumato giustamente In una combinazione tra la lingua latina e il cinese mandarino E uno dei più grandi carnivori piumati mai scoperti Grazie alla cresta nasale incredibilmente appariscente E alla splendida pelliccia che insomma soppiume in realtà Non mancherà certo di attirare l'attenzione dei visitatori Mi piace un sacco quelle guanciotte che tiene sopra la mandibola Eh sì Le labbra proprio nere Sì è molto 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 simpatico Poi è un dinosauro che più o meno tutti volevano in realtà Eh lo Yuti è famosissimo Anche il dei nonni Eh dopo ci arriviamo perché adesso tocca al Gelopterus Gelopterus che è stranissimo ragazzi Questo ci ho più minazzeccato Perché avevo detto il suo parente in realtà Però questo pure è simpatico Molto bella la colorazione Sembra una falena No una falena Bellissimo Ma è una farfalla Eh esatto la farfalla monarca mi sembra che si chiama Non so se c'è presente C'ha pure gli occhi qua che è una figata Una cosa che forse non mi piace Sembra troppo un pipistrello con queste orecchie Unicorn C'ha tipo le orecchie strane ma non è male comunque Cosa dicono? Agile e rapido in volo Il Gelopterus o Gelopterus non so bene come si dice Fregiarsi del titolo di volatore più minuto del gioco Effettivamente questo è anche più piccolo del Dimo penso Quello di Dominion Sì sì questo è piccolissimo Sì ma è infatti le tessino da di più Poi vedremo bene ma questo sarà davvero un minuscolo La piccola taglia gli permetterà di librarsi in aria con facilità A caccia degli insetti di cui si nutre Cosa? Ah io direi Ma come cazzo se li mangiano questi pesci talmente che piccoli? No infatti la cosa particolare è che nella descrizione Parlano proprio di questa cosa che si libra in aria per cacciare insetti Non ne parlano proprio di sta cosa ragazzi Questa è solo che giustamente la descrizione che fanno classica Quindi boh non sono sicuro di questa cosa Però sarebbe una figata vedere una bella mangiatoia di insetti Nella descrizione da Terry dicevano che mangiava piccoli mammiferi Non mi pare Passiamo al prossimo e questo è il signor Paperone Il Denocherus è fantastico È davvero davvero bello Come sono magnifici mentre bevono Belli belli grandi Con i loro artiglioni Sì sì veramente sono strafighi Il problema è che secondo me stornano un po' con gli altri dinosauri del gioco Perché sono troppo precisi Esatto sono troppo precisi esatto È come se prendessero dei dinosauri di Presto di Kingdom E li mettessero su due Cioè cazzo non ci stanno Secondo me sono troppo Cioè sono contento che li abbiano messi Però forse un po' esatto separati Però sì sì si meritano secondo me Con le zampe anteriori più lunghe di quelle di qualsiasi altro dinosauro bipede Il Denocherus Subirà sicuramente i visitatori Il pittoresco becco simile a quello di un'anatra Per questo l'anatrone E le stessa gobba rendono questo dinosauro davvero unico Infatti come lui non se ne trova nessuno Il momento migliore per ammirarlo è mentre mangia il suo cibo referito Le piante Ai 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 Mangia le piante che stanno dentro i pesci Esatto il problema è questo Avevano trovato nei file Un simbolo per la mangiatoia pescivolo erbivoro Meglio per la dieta pescivolo erbivoro Su questo dinotauro Che più o meno potrebbe ricoprire questo ruolo Non dicono niente che mangia anche pesce Dice solo piante Soprattutto che piante mangerà Penso che mangia tipo le foglie basse secondo me ragazzi Magari semplicemente appunto mangerà semplicemente le foglie Però non so magari richiederà un'ingente quantità di acqua nel recinto Vabbè quello sì può essere tante cose Il problema appunto è che c'era questa dieta pescivolo erbivoro Oppure magari qualcosa di particolare Lui mangia soltanto se le piante vengono piazzate sott'acqua Sarebbe una figata ma la vedo un po' difficile effettivamente Però sì sì esatto perché dovrebbero programmare tutto Però tutto può essere la Frontier Se davvero poi vedete con l'update hanno fatto una cosa molto simpatica Siccome hanno messo il fatto che i dinopiccoli scappano dall'acqua Perché non ci possono entrare dentro Sì hanno voluto fare qualcosa di giusto Hanno messo questa cosa che possono aver fatto Solo le piante che stanno in acqua a contatto con l'acqua Poi lo scopriremo giovedì prossimo Quindi a breve ragazzi Passando all'ultimo Il Tinosauropteryx Che è un procione C'è una coda enorme È davvero molto carino È piccolino potete vedere La differenza di grandezza si nota Di lui dicono che questo piccolo dinosauro carnivoro È caratterizzato da corte zampe anteriori È una coda straordinariamente lunga Infatti si nota parecchio pure nei trailer Che probabilmente utilizzava per mantenersi in equilibrio Mentre corriva sulle zampe posteriori Il Tinosauropteryx Il suo nome significa uccello drago Quindi è tipo una finiscebo della Cina È ricoperto da delicate piume simili a capelli Infatti si nota assai sulla coda soprattutto E farà sicuramente colpo sui visitatori Grazie alla sua inconfondibile coda a strisce ondulate Quindi è tipo un procione oppure un lemure A me piace, è molto carino Che ne pensate voi? King Julian Eh bravo se fanno di quel colore bianco e nero sarebbe una figata Vi devo segnare il nome Vi devo segnare il nome allora Secondo me questi dinosauri un po' diciamo piccolini Un po' come il Compi Vabbè il Compi è super iconico Questi pensano che sono più grandi Ma il Moros e anche Oddio vabbè Comunque di quelle dimensioni lì diciamo Secondo me non dico che sono un po' inutili Però essendo poco visibili Non rendono È un po' uno spregolo magari È un po' uno spregolo Esatto esatto Però vabbè dai non è male Comunque se ne è caso Sennò la zip sembra grande quanto uno malo Eh sì poi non è così piccolo penso alla fine Ma guarda Guardate la In confronto alla ruota È abbastanza piccolo Ma di sicuro è più grande del Compi O del Moros Sì 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 No ma il Moros viene nascosto dall'erba Questo esce fuori con la schiena Io direi di passare invece adesso Perché hanno fatto pure vedere O meglio hanno detto Perché fatto vedere Non hanno fatto vedere niente Però hanno portato anche Dell'update gratis Eccolo qua Update 6 Con l'aggiornamento numero 6 Arriveranno le gallerie panoramiche distaccate Uuuuh Jurassic Park Operation Genesis La f***a Ma io mi chiedo Ma come le colleghiamo al resto del parco Siccome sono distaccate Bella domanda Secondo me fruttano il fatto dell'Hyperloop Tranquillamente Magari c'è tipo un ingresso Che tu metti Attaccato Però non avrebbe molto senso Siccome poi Se mettono che funzionano solo Con l'Hyperloop Sarebbero tipo Comunque un pay per averle Più che altro no Forse sai qual è la cosa Non è proprio come l'Hyperloop Ma teoricamente L'Hyperloop C'ha un sistema di tunnel Ti trovi sotto No ma hanno fatto le cose bene Hanno aggiunto tipo Questa porticina Eh secondo me così La metti in un punto Esatto E tu fai il sentiero Fino alla cosa dove vuoi Sì secondo me Tipo tu metti Questa porta Attaccata alla gabbia Anzi aspetta Ma ci facciamo il disegnino Aspetta Facciamo che questo È La recinzione No Più o meno È una cosa molto Semplice Praticamente Qua All'ingresso Ci metti Tipo la porticina Vabbè non sarà così grande Sarà una cosa piccolina Tipo una specie di struttura E poi tu da sotto Puoi fare un collegamento Con un tunnel Che non si vede Poi c'è la cupola Poi dopo vi spiego meglio Perché non ci sta solo la cupola In realtà come tipologia E quindi tu metti questa cosa Fa entrare i visitatori qua Si fanno la stradina a piedi E escono Dentro la cupoletta Secondo me così funziona Una cosa del genere Quindi sarebbe sì Come l'hyperloop Nel senso che ci stanno i tunnel Sottoterra Ma magari appunto Non è che devi utilizzare Per forza La struttura Della biosin Anche perché poi dovresti Comprarlo Il DLC Questo è gratis Saranno fatto una struttura Bellina Tipo un atrio Infatti legno e vetro Sarebbe una figata Più che altro Secondo me Vabbè ci saranno i vari stili Però perché se fanno Tipo come la zipline E penso che mi incazzo malissimo A proposito A proposito Si tratta di nuove attrazioni Collocabili All'interno dei recinti Quindi già più o meno L'abbiamo detto Che offrono a visitatori Un posto in prima fila Per osservare Le loro specie pressoriche Preferite Potrai posizionare Due tipi di gallerine Il tuo parco La galleria panoramica Di tronchi E la galleria panoramica A cupola A cupola L'abbiamo vista più o meno Quindi sarebbe Una cosa del genere Penso Insomma magari Vari stili Che di vetro Che tipo c'ha le grate Eccetera E poi Una paglia scopra Per camuffare Così di non Eh tipo le foglioline attorno Quindi so Questa è una foglia Questa è un'altra foglia Oppure magari La vegetazione che sta intorno Cambia in base alla mappa Oddio sarebbe una figata E penso proprio Che sarà così Spero E poi abbiamo il tronco Che invece dovrebbe essere Come quello di Rex Quindi Penso più o meno Una cosa del genere Ci sta Il vetro E qua si collega All'altro lato Magari si chiude E poi tu vedi Il dinosauro Il tronco però Nel film È attaccato Effettivamente A una porta Della recensione Quindi lo puoi agganciare Effettivamente Alla recensione Oppure Eh bella domanda Chi sa se sarà solo Tipo proprio Un tronco Che tu metti A terra Oppure effettivamente Come hai detto tu Si attacca alla recensione Ma poi verrebbe Un tronco lunghissimo No? È da vedere un po' È da vedere un po' Perché sarebbe interessante Magari puoi seguire Tu la lunghezza Del tronco Eh si può essere Però loro Non hanno mandato Proprio nessuna foto Di queste ragazzi Quindi Speriamo bene Hanno detto che ovviamente Poi ci faranno sapere Altro sull'update Day Queste gallerie Panoramiche Possono essere usate Nei recinti O Nelle voliere Quindi marine Purtroppo Non abbiamo delle gallerie Panoramiche a quanto pare È un po' triste Questa cosa Perché magari Proprio i marini Ne avevano bisogno Però può essere Che magari In futuro Chi lo sa Sfruttando la tecnologia Del tronco Faranno tipo Qualche tunnel Del genere Potrebbero farlo Effettivamente Se il tronco Fa tipo come Detto tu Che si può Diciamo Gestire la lunghezza Potrebbero farlo Pure con Tipo delle gallerie Sott'acqua Speriamo Per un prossimo DLC O un prossimo aggiornamento Più che altro Oltre a questo L'aggiornamento 6 Offrirà anche Una nuova visuale Con telecamera cinematografica Per catturare Screenshot Indimenticabili Boh non so bene Cosa si intende Con la telecamera cinematografica Ma secondo me Sarà molto carino Ci sono anche I nuovi tipi di teleferiche Quindi sarebbero Le zip line Per decorare O decorare Cioè Insomma Sono comunque attrazioni Comunque Per decorare il tuo parco Quindi diciamo Che abbiamo visto Quella Della DFW Che è molto carina In realtà non è male Ma ovviamente Ci saranno anche I stili di Jurassic Park A sto punto E magari Magari appunto Potrebbe esserci Pure quella Biosyn Anche se non so Quanto senso Abbia Quella Biosyn Di sicuro Poi ci sarà pure Una malta Tutta arrugginita Strana Vedremo Tanto è a breve Ragazzi Il 30 Dobbiamo solo Aspettare un po' Oltre a questo Però Abbiamo anche Delle novità Che interessano La sandbox In generale E tra queste Ci sono 6 Nuovi livelli Quadrati Quindi sono 6 nuove mappe Questo intendono Con livelli quadrati Che intendono Con mappe Potrebbero mettere Tra l'altro Una cosa particolare Che dice Per livelli quadrati Intendono Le pitture Quadrate Direttamente No le pitture Ah anche Ah è vero Effettivamente Però non penso Che intenda i pennelli A proposito Di impostazioni Ci saranno Impostazioni riguardanti Le riserve Delle mangiatoie Finalmente Le mangiatoie Infinite Cavolo L'imposta sulle entrate Quindi ci fanno pagare Le tasse Ragazzi Interessante È particolare È più realistico La frequenza Delle catture In natura Interessante Per chi vuole fare Il parco Tipo che Prevalentemente Catture di no Già Esatto Aumenti la quantità Che spawnano Magari Quindi è buono Se vuoi fare Un parco Della DFW Che magari Oso di dinosauri Che appunto Ti arrivano Dalle parti Del mondo Varie Altra cosa Particolare E ci saranno Modifiche Al fogliame Decorativo Non so bene Cosa intende Magari puoi mettere Le piante Degli altri biomi Oddio Sarebbe una cosa Mitica in realtà Farebbe piangere In pratica L'altro più piangerei Però vedremo Tutti quanti In coro La frontier Con una brava Chiamata Non hanno parlato Ancora dei bidoni Ragazzi O panchine Magari Nei prossimi giorni Faranno uscire Tipo Dei lì Così Mi fanno vedere Qui escono Secondo me Dicono Ah nuove Decorazioni Guardate Decorazioni Per arricchire Il tuo parco Bidoni Infatti Infatti Matteo Caro Secondo me Domani O venerdì Che ci sarà Live Mezzo più domani Faranno vedere Qualcos'altro Ne sono sicuro Domani Le foto sopra il sito Del tronco E cose varie Ovviamente Se usciranno Ragazzi Sarò il primo A farvelo sapere Ovviamente Nel tempo limite Che c'ho Mentre edito Eccetera Ragazzi Purtroppo Dovete aspettare un po' Non è facile Non è facile E niente Secondo me Sarà un bel DLC A proposito Assolutamente Un bel DLC E anche Un grandissimo update Con questa cosa Delle nuove gallerie panoramiche Ragazzi Mamma mia Non vedo l'ora Di sfruttarle Perché sono una cosa davvero figlia Veramente euforico Vi devo salutare È stato un piacere Partecipare al video Ma di che Signor Matteo Non vedo l'ora Che escano più notizie Ciao Ciao Matteo E ragazzi Pure io vi saluto Ringrazio il signor Matteo Il signor Gio Che purtroppo Ci ha dovuto abbandonare Prima Per essere stati qui con me E niente ragazzi Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Nei commenti Se vi piacciono I miei disegnini fantastici Faccio un bello mino Alda Questo vi sta salutando È un poco storto Però vabbè E niente ragazzi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao Ciao